Luca, ho conosciuto questo ragazzo, sei molto carino, mi interessa, sì lo so, altrimenti non mi staresti mandando questo messaggio, vai avanti cara, esponimi. Eh sì, a un certo punto stavamo parlando e lui mi ha detto, beh dai, magari ci vediamo in giro domani sera, una roba del genere, sarò nel posto X. E adesso sono tutta eccitata e vuoi andare nel posto X? Casualmente, a farti trovare lì, vero? Eh, penso sia un'ottima idea. Eh, penso di no. Allora, la situazione è un po' complessa, cerco di sintetizzarla in pochi istanti. Lui ha fatto la cosa migliore, ha preso la cosiddetta pre-chiusura, cioè ha tastato il terreno, ne parlo bene nel libro, e ha capito che questa ragazza ha un interesse nei suoi confronti. La ragazza si è dimostrata aperta nei suoi confronti. Ma adesso cosa succede? Che se lei va nel locale, in realtà lei sta andando a procacciarsi l'appuntamento e sta letteralmente abboccando ad un'esca che lui ha lanciato. Qui non c'è nulla di male, ma è una situazione in cui si invertono i ruoli soliti, dove l'uomo caccia e la donna viene cacciata. Lo dico onde evitare incomprensioni, non è la situazione che io ritengo più giusta, quella dell'uomo cacciatore e della donna preda. E la situazione che ho capito vorrebbe questa ragazza. Allora, se voi donne volete essere le prede e volete essere le prede per l'intero rapporto, comportatevi da prede. Non potete per smania di conquistare un uomo o fare le cacciatrici e poi pretendere che, se e quando si creerà un rapporto con quest'uomo, quest'uomo diventi la parte attiva del rapporto. Se un rapporto nasce con voi donne come parte attiva, voi donne sarete sempre la parte attiva nel rapporto o sarete prevalentemente la parte attiva e avrete un uomo passivo a cui, quando direte voglio andare a cena, vi risponderà, ah ok, prenota il ristorante. Se è questo che volete, perfetto, ma se non è questo quello che volete, bisogna creare questa situazione all'inizio del rapporto. Quindi, tornando a quello di cui stavamo parlando, cosa dovrebbe fare questa ragazza? Assolutamente non presentarsi nel locale e fare in modo tale che, o quantomeno aspettare, che sia il ragazzo a farle un invito degno di tale nome. Dammi il tuo numero di telefono, vediamoci tal giorno, a tale ora, in tale posto, anzi no, ti vengo a prendere da casa. Questa è un invito, giorno, orario e un uomo che vi viene a prendere da casa. Detto questo, un invito e anche ci vediamo in giro? Sì, ma, diciamo così, la preview, il trailer di questo rapporto, ve l'ho chiarito molto bene. Non vi stupite poi se, essendo molto attive, vi ritrovate accanto degli uomini passivi. Eh, Luca, ma tu allora descrivi sempre una situazione dove lui è attivo, lì è passivo, oppure lei attiva, lui è passivo? No, sono d'accordo che i rapporti migliori dovrebbero essere quelli equilibrati. Ma per stare sicuri, dato che l'essere umano è bello pigro, quantomeno quando scelgo un cucciolo me lo scelgo che vispo, perché già se è triste quando lo prendo, figuriamoci quando sarà adulto e grasso. Che ameba che diventerà. Più chiaro adesso?